La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari. Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano. La siccità, il tuo bestiame senza cibo né acqua devi migrare lontano. La fame non è un gioco. Aiutaci. Contrastiamo la crisi alimentare in Africa. Manda subito un sms. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco. Non è un gioco.